buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti su questo video parleremo del 63esimo episodio di dino hunter vediamo cosa ci aspetterà buona visione eccoci qui nel 63esimo episodio ragazzi bello questo arco perfetto ok ah 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 Perfetto. 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 dicevo è stato facilissimo no a me va abbattiamo sti maia sauna sti alberi davanti bastione sono due l'altro è di là questo è stato facile c'è un po' Grazie a tutti. Ce l'abbiamo fatto. Con tre ce la posso fare. E che il problema sono sti alberi. E che il problema sono sti alberi. E che il problema sono sti alberi. Grazie a tutti. Eccom'è qui ragazzi. Qua il polmone visto abbiamo colpito. L'ho saltato perché già l'avevo fatto vedere. L'avevo fatto disastri. Ma questo anche senza potenziamento possiamo farlo. Andiamo va. Poi stando solo tre ne dobbiamo abbattere. Visto è stato semplice manco il potenziamento. Se ci sono gli organi sì allora. No mi costa. Abbattiamo questi proceratosauri. Sono cinque. Visto. 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 Forza. Sì. 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 Ragazzi. Con un colpo polmone. Soltanto due sono questi eh ragazzi. Perciò qui non possiamo sbagliare. Ah. Ehm. Ehm. Facilissimo è stato. Ehm. Facilissimo è stato. C'era la pubblicità. con l'arco è semplice occhio che questi sono carnivori eh ragazzi stava cercando un modo per venire se attraversava anche se c'era l'acqua non mi basta vabbè proviamoci lo stesso eh sono soltanto tre tando che imbecile abbiamo una possibilità con l'esca meno male con l'esca ci siamo salvati ma è stato da pazzi questa cosa eh ragazzi andando potenziamoci sto coso il mirino andando andando aspettate oh ce l'ho fatta ragazzi finalmente prendiamo la prossima mission eh possiamo farlo anche senza armi ragazzi che ci vuole poi colpiamoli col polmone che già abbiamo finito bello bello mi fa morire da ridere due carnivori due carnivori ragazzi facciamo altre due partite e facciamo il pieno ma poi dove diamine andiamo sta andando andiamo sta andando andiamo sta andando forza che questo qua che questo qua è un duro eh perfetto l'abbiamo steso due ctipati due ctipati beh facile a meno di tre prima prima battiamo questo qua eh eppure il più semplice forse ma che diamine ma che diamine gli è preso oh sto arco che non spara bene le frecce perfetto ragazzi che vi ho detto abbiamo fatto il pieno su questo mi interessa molto il mirino eh ragazzi boh proviamo a meno quattro niente ce l'ho fatta si è tolto l'audio ragazzi quattro kentrosauri ragazzi questi sono facili eh visto che vi dicevo sono facili da uccidere ora è ritornato l'audio a fai cinema questo che mi dicevo non è facile abbattiamo questi 4 maia saura e si è tolto l'audio di nuovo perché forza si è tolto l'audio e ce la posso fare vediamo comunque però ce l'ho fatta facciamo questo qua e sblocchiamo la regione 15 vediamo due mangiatori di lucertole due ne dobbiamo abbattere oh oh no ti pareva aspettate un attimo il secondo mangiatore dai 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 forza muori te li faccio mangiare io le lucertole a ucciderti all'osauro mostruoso siamo ritornati di nuovo dall'altra parte dell'everest ragazzi pianure pianure furbonde no furibonde scusate ho sbagliato a leggere la regione 15 finalmente eh ragazzi l'abbiamo sbloccata bello il 63esimo episodio forse non ve l'ho fatto vedere l'altra parte dell'everest come è combinato ma c'è una mappa poi lo vedrete nel prossimo video abbatti due gastonia no costa troppo ragazzi no me lo farò da solo d'accordo e poi saremo pronti a combattere bene ragazzi spero che questo video mi mente di Dino Under che cosa il 63esimo episodio sblocchiamo la regione 15 vi sia piaciuto iscrivetevi al canale mi raccomando di un bel like seguite Instagram e noi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti